Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di 4 segni che ci possono indicare che abbiamo shiftato finalmente nella nostra realtà desiderata. Prima di cominciare mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Silvia Mulas e mi occupo di legge di assunzione, mindset e selcomset, in particolare per il femminile in evoluzione. Bene ragazzi, partiamo con l'argomento di oggi. Innanzitutto vi voglio ricordare che shiftare di realtà significa fare un salto di consapevolezza, significa che stiamo uscendo dalla nostra vecchia identità, quindi non siamo diciamo più prevalentemente consapevoli degli assunti che abbiamo avuto sino a momento X, ma stiamo portando la nostra attenzione, le nostre energie alla nostra nuova identità e quindi di conseguenza alla nostra nuova realtà esteriore. Detto questo, un'altra piccola premessa è ricordarvi che noi shiftiamo in continuazione, anche solo per esempio sono in ufficio, sono un'impiegata, quindi sono nella versione di me che è un'impiegata, mi chiama mia madre al telefono, in quel momento lì io shifterò nella versione di me che è una figlia, quindi potete applicare questa cosa a qualsiasi situazione nella quotidianità e vedrete come noi shiftiamo da uno stato all'altro anche senza rendercene conto. Quando parliamo di shift di realtà, io in particolare gli altri non lo so, mi riferisco a dei cambiamenti radicali profondi, quindi proprio di, diciamo in ambiti ben precisi come possono essere quello dell'amore, del lavoro eccetera eccetera, proprio nell'incarnare al di là dei micro shift quotidiani normali che mi alzo sto bene, poi magari dopo un paio d'ore inizio ad essere stanco, anche quello è un cambio di shift, quindi non mi riferisco a questi shift, mi riferisco a un VR proprio cambiamento di stato interiore che poi appunto si riflette fuori. Bene, detto questo partiamo con i segni che ci possono indicare che abbiamo shiftato di realtà anche quando diciamo non abbiamo segni eclatanti all'esterno. Allora, primo segno, il primo segno è una sensazione, ossia che mi sento bene, non sto pensando tanto alla mia manifestazione, ho fatto il mio lavoro interiore, non sento neanche più la necessità di dover ripetere tanto e ho proprio questa sensazione di spensieratezza. Una cosa che potrete notare è che la, diciamo, la vita, l'esperienza di vita fluisce in maniera molto semplice, quindi ti ritrovi ad avere numerosissime sincronicità che possono essere, facciamo un esempio sciocco, esci di casa, arrivi, vedi che il semaforo è rosso, tu stai arrivando, il semaforo scatta e diventa subito verde. Arrivi al supermercato, giri la testa, vedi che ci sono, che non c'è parcheggio, rigiri la testa e la persona affiancata è la macchina accanto a te, sta uscendo dal parcheggio e trovi il parcheggio. Ecco, questa fluidità, diciamo così, ecco, si percepisce. Segno numero due, vediamo dei piccoli cambiamenti esteriori, quindi, per esempio, se stiamo manifestando una relazione, inizieremo a vedere coppie, se stiamo manifestando un aumento del salario, potremmo sentire una persona, un amico, un parente che ci chiama e ci racconta che ha avuto appunto un risultamento che è tanto contento. Quindi questo, proprio come vi ho spiegato nel video del sistema reticolare, è un segno che la nostra realtà sta shiftando. Segno numero tre, il segno numero tre è il fatto che la nostra consapevolezza non è prevalentemente nella vecchia storia e nella vecchia versione di noi stessi e del mondo esterno, quindi della situazione esterna. Di conseguenza non siamo concentrati sulla mancanza, sulle cose che non stanno funzionando, sul fatto che ancora non abbiamo nel 3D la nostra manifestazione, ma la nostra consapevolezza lascia andare, quindi noi lasciamo andare completamente la nostra vecchia storia. A volte può capitare di avere appunto pensieri oppositori o comunque delle sensazioni diciamo dei mini trigger, chiamiamoli così, ma non sono prevalenti. Nella prevalenza del tempo tu stai nella sensazione, diciamo così, di desiderio realizzato, quindi non ci stai pensando particolarmente e non hai quella sensazione del non sta funzionando, devo fare qualcosa di più, cosa sto sbagliando, vedi la persona specifica, ho il conto in banca, quello che volete voi, non sta riflettendo, deve esserci qualcosa che non va e quindi questo è l'errore più comune quando si è fatto già il lavoro, si è shiftato, si è visto un movimento, comunque anche il movimento interiore, cioè che state meglio, poi basta o niente perché la nostra consapevolezza si riagganci alla situazione attuale, quindi si rishifti nella vecchia realtà, nella realtà che è già solida, ok? Quindi un segno è che non hai la necessità di validare costantemente la situazione attuale, di trovare soluzioni alla situazione attuale, basta, sei dentro, hai shiftato, la tua attenzione è in altro, che non vuol dire che non devi più ripetere le tue affermazioni o quant'altro, quella tra virgolette, ricordatevi ragazzi che la tecnica è uno strumento, ho letto un commento di una nostra amica che diceva che dopo anni appunto di pratica della legge degli assunti ha realizzato che noi siamo potenti manifestatori, questo è più che, scusate, mi sono incartata, quindi questo è più che sufficiente, in realtà di fondo è vero, ma io onestamente se non avessi fatto anni or sono il lavoro di ripetizione con le affermazioni e la stabilizzazione del sistema nervoso, che sono tutte tecniche, non avrei potuto cambiare la mia realtà, ok? O comunque anche quando la mia realtà in parte conformava non ero in grado di mantenerla, ok? Quindi ricordatevi che le tecniche sono strumenti, non è la tecnica che manifesta, ma è, per esempio, faccio un esempio sciocco, voglio perdere peso, il tapirulan sarà uno strumento, la tecnica tra virgolette la possiamo comparare a questo, non è il tapirulan che mi fa perdere il peso, è la combo di me con quello strumento che mi porterà a perdere il peso, ok? Quindi la visualizzazione, scripting, quant'altro, sono strumenti, per quello funzionano tutti, funziona quello che è più naturale per te. Segno numero 4, che è anche quello più importante a mio avviso, è che le nostre reazioni a delle situazioni che possono essere similari a quelle del passato, sono completamente differenti. Facciamo un esempio, la persona specifica ci manda un messaggio, che magari non è di 400 parole, ci manda un messaggio, ciao, buongiorno, come stai? La mia reazione, che prima sarebbe stata, ah, vedi, sempre freddo, sbuca dal nulla, dopo mesi non si fa sentire, la reazione, la risposta sarà di gioia, di tranquillità, di certezza che la mia persona specifica è contenta di sentirmi e che io sono contenta di sentire la mia persona specifica. Quindi adesso, questo è un esempio, non prendete tutto nello specifico, ve lo dico, perché poi trovo commenti, Emma, la mia persona specifica, Emma, nel mio caso, sono esempi, ragazzi, quelli che vi porto generici, per comprenderci. Quindi le nostre reazioni sono completamente differenti, cioè ci verrà proprio naturale approcciare delle situazioni simili, rispondendo in maniera completamente differente. Questo, se lo vogliamo, diciamo così, dare una spiegazione anche un po' psicologica, è perché abbiamo trasceso i nostri trigger, quindi quell'aspetto lì è stato lasciato andare, tra virgolette è stato risolto, e abbiamo citato in una versione di noi che quel trigger non ce l'ha più. Perché che cos'è il trigger? Il trigger tu ti puoi triggerare, puoi avere una reazione solo se già dentro di te c'è qualcosa che risuona con quella situazione, con quella interpretazione, altrimenti non può toccarti, nel senso non può influenzarti negativamente quella situazione là. Ok? Quindi, quando la nostra risposta è differente, è un segno che, prima di tutto, che è la cosa più importante dentro di noi, abbiamo proprio shiftato in una versione nostra differente. Quindi, di conseguenza, la realtà esteriore deve aver shiftato insieme a noi. Perché molto spesso è così, è istantaneo, è solo che noi non sosteniamo quello shift per un tempo sufficiente, perché poi la nostra consapevolezza possa identificare nel 3D i cambiamenti. Questo è quello che avviene, diciamo, a livello un pochettino più profondo di fisica, ecco. Quindi, questo è un aspetto molto molto importante, anche perché ci, pratica, ci rassicura che la nostra vecchia storia è andata, la nostra vecchia identità è andata. Quando dico andata, non vuol dire che non è più dentro di noi, perché noi siamo tutto, ricordatevelo sempre, il percorso, diciamo così, di risveglio, la manifestazione è consapevole, il cambio di self-concept, il shift in realtà, quello che volete voi, è parte del tutto. Non è che noi poi andiamo a reprimere, a evitare parte di noi stessi. Non fate sta cosa, perché veramente vi si ribalta contro, e comunque la realtà, se il cambio interiore non è stato fatto, vi rifletterà ancora la vecchia schifezza. Questo lo dico per esperienza. Vi ricordatevi che noi siamo tutto, abbiamo tutto al nostro interno, a volte può capitare che, appunto, situazioni similari, un pensiero che viene dal nulla ci possa riportare, diciamo, ci fa shiftare alla versione di noi vecchia, semplicemente riportiamoci di là, alla nostra versione nuova, che può essere tramite un'affermazione, tramite il self-love, una passeggiata, quello che, diciamo, la metodologia per cui si shifta più velocemente. Il mio modo più semplice per shiftare è l'interpretazione del personaggio, essenzialmente. Quindi, adesso l'ho integrato, quindi non ho più bisogno particolarmente di fare questo lavoro, ma all'inizio proprio incarnare, giocare, a interpretare il ruolo della persona che aveva il desiderio realizzato. Quindi vi faccio un esempio. Voglio sentirmi super corteggiata, bla bla bla, bene con me stessa, super confidente, eccetera. Me ne andrò in giro con le spalle larghe, con un vestito che mi fa sentire bene con me stessa, mi dirò delle cose, userò delle affermazioni che mi fanno sentire bene con me stessa, il mio linguaggio corporeo sarà, ovviamente, completamente differente. Questa giocosità che io chiamo appunto l'energia femminile mi ha aiutato e mi ha dato risultati molto più veloci. Perché? Perché per mia conformazione di personalità ripetere l'affermazione così vuota non mi ha ispirata, insomma, la vedevo, diciamo, al mio percepito, era più come se stessi facendo veramente un lavoro per ottenere qualcosa e non, diciamo, utilizzando il macchinario, perché lo chiamo il macchinario, no? L'essere umano, il corpo, la mente, eccetera, eccetera, il macchinario in maniera corretta per manifestare in maniera giocosa, ok? Quindi con un'altra cosa che vi consiglio cercate di portare leggerezza nel vostro percorso, nelle vostre manifestazioni. Non dico che questo sistema valga per tutti, però a me ha dato veramente risultati risultati eccezionali e in brevissimo tempo. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Abbiamo visto quali sono i segni per riconoscere se abbiamo scelto di realtà. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao!